Iniziamo quindi con la signora Iveta Radicova, prego. È un piacere essere con voi oggi e illustrare quelli che sono i progressi fatti nel corridoio mediterraneo, cioè uno degli assi est-ovest delle TNT, oltre 3.000 km, con porti marittimi molto importanti e anche vari valichi di frontiera. Il patto verde europeo in effetti prevede di avere un 70% del trasporto merci che attualmente avviene su strada, su rotaia e vie navigabili interna. La Commissione a dicembre dell'anno scorso ha presentato una strategia che prevede, in modo ambizioso, di raddoppiare il trasporto su rotaia e di triplicare l'alta velocità entro il 2050. Quindi una grande responsabilità per il corridoio mediterraneo che attraversa delle zone molto sensibili sul piano ambientale, per cui dobbiamo anche lavorare, come stiamo facendo, tenendo presente il concetto di città intelligenti, di smart cities. L'obiettivo è 2030 con un obiettivo di raggiungere degli standard per quanto riguarda le TNT in questo ambito. Ora vorrei brevemente illustrare che cosa è stato già ultimato e cosa è ancora in corso. Si tratta di vari progressi fatti in Slovenia per quanto riguarda il superamento di vari intoppi, con un miglioramento nel collegamento tra Slovenia Est e Ovest. Poi Montpellier-Min è un risultato in Francia. Poi per quanto riguarda l'Italia un rafforzamento del collegamento ad alta velocità tra Treviglio e Brescia e anche dell'interporto Padova. Poi in Spagna la linea ad alta velocità Anteguerra-Granada con l'apertura della circonvallazione tra Valencia e Tarragona con una riduzione del tempo di percorrenza tra Valencia e Barcellona. Importante poi investimento nel porto di Vlieca con un potenziamento delle sue capacità. fondamentali investimenti sono ancora in corso. Per esempio in Spagna, proprio oggi, ho un incontro di lavoro con i colleghi di Valencia. In Spagna c'è un piano ambizioso di potenziare la rete per eliminare quello che era l'isolamento ferroviario della penisola iberica con anche un secondo binario, sempre a Valencia, per aumentare la capacità tra Tarragona e Barcellona. E con particolare riferimento anche a Alicante. Poi Grenada e Almeria, anche qui ci sarà un potenziamento, un upgrading in un'ottica 2025. Lavori di preparazione riguardano anche il potenziamento della zona, della sezione Alghessira-Angher. Poi alta velocità tra Brescia e Velona, completamento previsto entro il 2025. E la linea tra Trieste e Divarska, che già esiste ma diciamo verrà ammodernata. Questo appunto per avere un aggiornamento rispetto a quelli che sono gli standard previsti per le TEN-T entro il 2025. Poi costruzione del tunnel della nota linea ferroviaria Torino-Lione con sigla di contratti per l'avvio dei lavori dal lato francese per ora e dall'anno prossimo anche dal lato italiano. Poi investimenti per aumentare la capacità del hub ferroviario di Lione con anche un potenziamento dell'area di Torino e importanti lavori anche a Marsiglio. Poi ricostruzione della sezione tra Sivanimoz e Ovar. Questo è molto importante per il miglioramento complessivo del collegamento tra Croazia e Slovenia. Investimenti in corso tra Coppe e Divace. Investimenti in Croazia in vari punti da Zagabria fino al confine con l'Ungheria e poi fino al confine con Rieca. Poi anche la preparazione e l'inizio della costruzione di quella che è il rilancio della zona urbana di Budapest. Questo corridoio nel 2021 è stato esteso in varie zone in Francia, Spagna e Italia. Per esempio Madrid, Taruel, Zaragoza, Tolosa, Marsiglia, Genova, La Spezia, Milano, Bologna e i porti marittimi di La Spezia e Palma de Mallorca che sono stati aggiunti al corridoio. Quindi siamo ancora sotto prensione ma assolutamente attivi. Abbiamo ancora nove anni e mi auguro che nel vostro sostegno e anche con il sostegno della Commissione e degli Stati membri riusciremo a vedere i primi risultati nel 2030 perché questo va a vantaggio non solo degli Stati membri ma soprattutto dei cittadini. Grazie dell'attenzione.